quanto mi piacciono i video domenicali ciao a tutti fratelli e sorelle bentornati benvenuti nell'hollow into the wild della domenica ragazzi è successo di nuovo che cosa è successo di nuovo che sono finito all'interno di una maratona ragazzi quindi quindi se vedete persone vedete in fondo che c'è quelli che fanno attraversare stanno arrivando delle persone a piedi è successo di nuovo sono finito ancora all'interno di una di una maratona però 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 ho avuto modo in questa 45 minuti questi 45 minuti mentre correvo ho avuto modo di pensare un po di cose che vi voglio raccontare ciao a tutti ciao prego volete salutare ciao 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 ho avuto modo no ma non sto facendo la maratona sto andando al contrario ciao ho avuto modo ragazzi di pensare ho avuto modo di pensare un po e voglio partire da dei concetti che voglio condividere con voi allora il primo riguarda l'allenatore ma non il solito discorso chi sarà l'allenatore chi non lollo i milanisti official ciao allora voglio condividerci la facciamo in un minuto e mezzo ce la facciamo voglio condividere con voi questo questo ragionamento che riguarda l'allenatore ma l'allenatore il nostro percorso dei nostri dei nostri allenatori perché sapete che quando quando si parla del percorso fatto con pioni negli ultimi anni si tende sempre mi è venuto in mente questo parallelismo è come quando tu stai con una persona vivi dieci anni benissimo con una persona poi l'ultimo anno perde le condizioni magari ambientali economico comunque situazioni della vita l'ultimo anno non non te lo vivi bene e nella tua memoria a breve termine ti rimane in mente quello che è quello che è successo nell'ultimo anno quando in realtà o c'è un cane bellissimo ciao 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 quando in realtà quando in realtà ragazzi poi dopo a me è capitato nella vita poi dopo quando ti stacchi un attimo da da quella che è la realtà dei fatti magari quando passa un po di tempo inizia a pensare a quello che è stato il tuo percorso degli ultimi anni e inizia a fare dei bilanci che sono completamente diversi rispetto ai bilanci quelli che vi dicevo a breve termine e credo che stessa cosa sta succedendo succederà ovviamente non sappiamo poi come finirà la questione però potrebbe succedere anche sulla questione allenatore perché se noi guardiamo l'ultimo anno inevitabilmente ovviamente come tutti i tifosi del milan muovono delle critiche verso l'allenatore perché comunque abbiamo fatto un anno dove ieri vincendo abbiamo praticamente qualificato ieri mi ero dimenticato di sta roba ci siamo qualificati per la supercoppa italiana e abbiamo praticamente quasi non matematicamente ma abbiamo blindato la seconda posizione seconda posizione in campionato quindi queste sono due cose positive dell'ultimo anno in realtà tutto quello che è stato il nostro percorso durante l'anno ciao 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 in realtà quello che è stato il nostro percorso durante l'anno è insomma è stato un po così qualificazione al girone di champions che non riusciamo ad ottenerlo perché il pari saint germain si prende un rigore al 110 che assolutamente non c'era e noi non non andiamo avanti in in champions league ai gironi andiamo in europa league facciamo le prime partite obiettivamente sinceramente ragazzi con squadre di livello bassissimo passiamo il turno arriviamo a giocare contro la roma e paradossalmente ragazzi arriva a giocare contro la roma e giochi le peggiori due partite inclusa quella del derby dopo le peggiori due partite del degli ultimi sei mesi ragazzi e le giochi proprio contro la roma e giochi proprio contro la roma l'altro giorno stavo guardando un stavo guardando un video di non mi ricordo chi mi perdonatemi non mi ricordo diceva come e rafforzava un concetto che io già avevo raccontato un po di volte su questo canale il concetto qual era pensate ovviamente non voglio parlare di sfortuna ok ok non voglio parlare di sfortuna ma quante possibilità c'erano che poi si sono realmente realmente sono diventate tali quante possibilità c'erano di arrivare al derby e far sì che la vittoria dell'inter al derby significasse scudetto per l'inter veramente se andate a vedere a livello statistico nell'anno nel corso di tutto l'anno è veramente è veramente difficile che succeda una roba del genere cazzo ma è successa veramente scusate la parolaccia cioè incredibile ragazzi è successo veramente che che l'inter nel vincere la partita al derby diventasse campione d'italia perché vi sto parlando questa cosa non voglio dirvi sfortuna ok ma le le situazioni che si sono concatenate mettiamola così le situazioni che sono concatenate per far sì che si creasse tutto questo ambiente ostile riguardo all'allenatore sono sono figli evidentemente di errori sono figli evidentemente di risultati sportivi non sono ottenuti e quello ce lo mettiamo in tasca e ovviamente non è che siamo qua a raccontare le balle ci diciamo la verità ma c'è anche quel pizzichino quel pizzichino così di casualità concatenazione di eventi via mettiamola 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 così quindi tornando a bomba a quello che vi stavo dicendo questo anno che oramai va a concludersi ci lascia tutti con molto amaro in bocca allora credo che la corsa vada di là quindi io devo andare di qua ok vado di qua quindi questo anno che si conclude che lascia tutti noi con un sacco di amaro in bocca e riguardo ovviamente la questione alla questione allenatore mi si è slacciata la stringa raga speriamo di non cadere mentre parlo se no vabbè fa niente fa niente non riesco ad allacciarla adesso con in mano il telefono quindi questa quest'anno ci lascia con con tanto amaro in bocca riguardo la questione allenatore ma secondo me se siamo dei bravi tifosi se siamo dei bravi tifosi o perlomeno dei tifosi maturi maturi dobbiamo essere in grado di guardare il percorso di mister pioli sempre che ovviamente si concluda a fine anno io dico se ovviamente per una pura questione formale se il percorso di mister pioli si dovesse chiudere quest'anno noi dobbiamo essere bravi a giudicare il percorso del mister ponendoci un attimo distanti cioè non prendendo solo in considerazione questo ultimo anno che ripeto è stato un anno sciagurato quindi dobbiamo essere bravi a metterci distanti e a dire ok l'ultimo anno è andato così mettiamo l'ultimo anno all'interno dei cinque anni del calderone dei cinque anni vai a vedere il milan grazie ovviamente anche agli investimenti della società grazie a tante scelte di mercato alcune giuste e alcune sbagliate tra l'altro poi vi devo raccontare una cosa una cosa di decetelare alcune giuste alcune sbagliate al netto dei soldi incassati da sandro tonali il milan negli ultimi tre anni ha messo 145 o 155 milioni di euro sul mercato quindi anche lì no la famosa leggenda metropolitana il milan non mette i soldi 150 milioni di euro negli ultimi tre esercizi al netto della cessione di sandro tonali è attenzione ok quindi dobbiamo essere bravi a staccarci un attimo e a giudicare il lavoro di mister pioli da 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 tifosi comunque non trascinati dalla so come dirlo non trascinati un po dalla rabbia social ok che tante volte la rabbia social giusta è ci mancherebbe però magari è figlia del momento è figlia della del tifare di pancia nel tifare di pancia è giusto che sia così è il tifoso tifa di pancia e ci mancherebbe però se vogliamo essere se vogliamo essere dei tifosi di ripeto emancipati dobbiamo cercare di fare un discorso più ampio il discorso più ampio che cosa ci suggerisce discorso più ampio ci suggerisce che quando è arrivato mister pioli noi eravamo in una situazione post il maestro giampi vi ricordate eravamo in una situazione a dir poco disastrosa abbiamo festeggiato ragazzi forse qua qualcuno si dimentica ma noi abbiamo festeggiato perché andavamo in europa league io qua su questo canale ho festeggiato perché siamo andati in europa league io su questo canale non ho dormito una settimana prima della partita contro bergamo per andare in ricordate guarda la doppietta di frank ho dormito una settimana io per quella partita lì e quella partita lì ti giocavi l'accesso alla champions league adesso per quello che vi parlo di percorso adesso noi siamo secondo in campionato probabilmente chiuderemo secondi siamo qualificati in champions league da da gennaio e nonostante tutto noi finiremo quest'anno incazzati quindi c'è proprio un cambiamento radicale delle aspettative che noi riponiamo sulla squadra perché prima noi ci accontentavamo di andare in europa league e festeggiavamo ci accontentavamo di andare in champions league come quarti e festeggiavamo e invece adesso le aspettative nostre da tifosi si sono alzate tantissimo e quindi arrivi secondo dietro un inter tra l'altro la ragneri ecco cosa vi volevo raccontare ragazzi ho ascoltato l'intervista di ragneri ieri e ragneri dice a fine partita a me fa ridere che qualcuno consideri il milan una squadra non forte e lo dice ragneri ragazzi un maestro di calcio non l'ultimo ragneri ragazzi il maestro degli allenatori di calcio dice dice mi fa ridere che qualcuno consideri il milano una squadra non forte sono tutti i giocatori ovviamente parlava anche di quando poi nel secondo tempo sono entrati anche tutti i nostri titolari sono tutti i giocatori che giocano uno due tocchi tutti sono una squadra fortissima e lui giustamente dice la gente tende a dare meno valore al milan perché è arrivato dietro l'inter ma non è che il milan vale poco è l'inter che ha fatto un campionato stratosferico tante cose ragazzi tante cose vabbè comunque e concludo e siamo noi che abbiamo cambiato le aspettative e cambiando le aspettative cambiano anche le richieste perché adesso ragazzi chiudo qua chiudo il video perché sennò faccio due ore e cinquanta di video cambiando le aspettative cambiano anche le richieste sul mercato perché se prima noi ci potevamo accontentare di determinate figure adesso parlo ovviamente di tipologie parlo di tipologie di calciatori no se prima ti potevi accontentare di prendere l'attaccante faccio un esempio per farvi capire l'attaccante da 20 milioni perché tanto va bene e adesso adesso le aspettative sono più alte perché 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 la sticella si è alzata per tutti si è alzata per la società si è alzata per i tifosi si è alzata per l'allenatore si è alzata per tutti e quindi ti aspetti che il il l'attaccante che arriva sarà un attaccante a 25 gol ho visto che pare che si sia ci sia molto interesse concreto per sesco e ragazzi e quindi quindi tante cose guardate dove vi ho portato i vecchi sapranno quello che cos'è ragazzi avrei dovuto venirci prima in questa stagione un po un po sciagurata ma ovviamente è iniziato a fare caldo da adesso quindi faceva freddo fuori non posso correre perché se corro fuori poi mi viene perdo la voce subito io ho un problema con la gola che appena prendo freddo per perdo la voce quindi ovviamente la voce il mio lavoro e quindi devo devo correre in palestra adesso appena iniziato a fare caldo vi ho portato dal san culino ragazzi io vi saluto vi ringrazio spero di avervi di avervi messo un no no una pulce nell'orecchio però spero di avervi fatto perlomeno nel mio piccolo per quanto possano valere le mie parole fatto ragionare un po no fatto ragionare un po cercare comunque di di guardare la situazione allenatore magari da cambiando un pelo la prospettiva lo so che non sarà facile ragazzi lo so che non sarà facile c'è come quando altri allenatori altri dirigenti altri gazzini ma vi ricordate gazzini oggi tu parli con qualsiasi tifoso del milan e ti dice grande grande aivan grandissimo cuore rosso nero e tutto è però all'epoca se voi vi ricordate quando c'era gazzini c'era la gente che lo criticava spramente quindi tante volte la rivalutazione di una figura sia che sia un giocatore un allenatore tutto quello che volete arriva dopo un po purtroppo purtroppo ragazzi questo questo succederà succederà credo anche con con mister pioli e basta ragazzi basta 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 vi saluto vi ringrazio come sempre è stato un piacere tenervi compagnia volevo fare sei minuti di video sono arrivato a 15 ma oramai ragazzi che ve lo dico a fa oramai lo sapete ciao a tutti un bacio un abbraccio da me e dal san culino ciao